La motosega a batteria Hyundai La motosega i LCG C777-3 è lo strumento ideale per interventi di potatura e taglio, dotata di un motore brushless da 1000 Watt che offre una potenza costante, permettendo alla motosega di garantire prestazioni buone nel taglio di rami e tronchi. La barra di taglio di 35 cm e il diametro di taglio di 30 cm assicurano una superficie di lavoro versatile, ideale per affrontare tronchi di diverse dimensioni con estrema precisione. Il sistema di freno catena elettrico eleva notevolmente il livello di sicurezza durante l'utilizzo, garantendo operazioni senza inconvenienti. La tensione della catena può essere facilmente regolata grazie al sistema Tool Free, una soluzione intuitiva che assicura sempre il massimo delle prestazioni. A questo si aggiunge un sistema di lubrificazione automatica, che non solo preserva la durata della catena, ma anche ne assicura un funzionamento continuo e fluido. Il serbatoio da 160 ml è progettato per fornire una distribuzione precisa del lubrificante, garantendo la catena sempre in perfette condizioni. E per assicurare un'autonomia eccezionale, il dispositivo dispone di due slot per batterie da 20 V, garantendo così una durata prolungata dell'operazione. E per assicurare un'autonomia eccezionale, il dispositivo dispone di due slot per batterie da 20 V, garantendo così un'autonomia eccezionale, Grazie a tutti